Voi vedete in colore nero, in nero, questo è il tipo di tipe, blocchi, per bloccare, come si dice? Come paletti, come paletti, come tubi, ok. Lui viene in palazzo qui, lui usa questo palazzo per le grandi riunioni, per fare le riunioni. Questo palazzo è circondato con l'amministrazione di difese, ok? Quando lui viene, voi vedete dove c'è camion, c'è trafico, in fondo, se volete andare là, voi si può andare là.